Amici di MarciGames, bentornati! Sono con Loco! Dai, raga! Raga, abbiamo visto che GTA vi sta tornando a piacere. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, un mi piace, un dislike al video di Loco. Siamo prontissimi! Noi siamo le tube blu. Siamo tornati sulle Mystery Box, che è un video che vi è piaciuto un sacco, non me l'aspettavo. Mi raccomando. Le Mystery Crocs, eh? Le Mystery Crocs, una delle ciabatte! Una delle ciabatte enormi in cielo. Allora, adesso vai, visto che Marco oggi è on fire. Marco, scegli... Le Mystery Props! Scegli su cosa devono commentare, dai! Devono commentare su quanto fa caldo in questo momento in Arizona. Ma basta, tutte le tue storie su tutti, Marco! Ma all'Arizona che c'entra ora? No, allora, ti spiego. Allora, mentre guardano il video, devono andare nel meteo e, tipo, magari una persona guarda il video lunedì. Dall'Arizona, lunedì 4 agosto. Ah, in quel momento lì che meteo fa? Bello, bello, mi piace, ci sta, ci sta. Però l'Arizona preciso, tipo Phoenix... No, 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 voglio proprio... Loro devono cercare Arizona. L'Arizona è uno stato. Marco, come si scrive Arizona? Non mi interessa, Marco, tu ogni giorno metti una story in cui ti lamenti del caldo. Ah, non l'ho mai fatto, tipo, non lo faccio da due mesi. Ma non è che lo fai tutti i giorni, quasi? Dai, apri Instagram, vedi e si mi salano del caldo. Stamattina io l'ho vista uno, effettivamente. Oggi non mi sono lamentato del caldo, ma che dite? Il studio con il caldo è registrato. Eh sì, ti salano del caldo. Dai, stai, stai... Instagram... Instagram... Raga, so che è particolare come cosa, ma ha ragione loco. Oh mio Dio! E ragazzo! Agosto, agosto in studio a registrare e fare un sacco di cose belle. Pagliacci! 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 Ieri hanno messo storie! Pagliacci! Zitti! 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 Scemi! Zitti tutti! Zitti tutti! Zitti tutti! Zitti tutti! Io non riesco a entrare neanche in uno, raga. Zitti tutti! Io mi sembro veramente un cretino. Ah, come loco? Ma perché? No, lui è... Il re. Il re. Lui è un asino. Senti che per me l'insulto peggiore che si può dare ad una persona non è tipo imbecille, deficiente... No, no. Coglione, così c'è. Ma Marcello! Per me la cosa peggiore è dire uno se è un asino. Ma ti sei autocensurato! Sì, mi sono autocensurato! Che problemi! Ditemi che dire uno se è un asino non è brutto. Sì, ma l'autocensura era inaspettata. Eh, raga, io sono qua sopra. Aga. Aga! Aga! Perché hai detto aga? L'autocensurato era in minigun. Mico è morto! Ok. Ma quanto mi dispiace! Non mi ha fatto entrare. Aga! Loco, il tuo problema qual è? Scusate, noi siamo blu! Perché prendi la macchina rossa? No, vabbè, tanto tranquillo, non c'è una mappa che ti indica chi sono. Dimmi, Marcello. Aga! Non c'è! Eh. Aga! Ok, Marcello. Ah, ci ti stanno spando. C'è un gran potier del Kayai, si chiamava Agazzi. Vabbè. Qua volta morire, Marce? Agazzi. Ho ucciso io? Bravo! Ma chissà se si chiamava Agazzi veramente o è perché era tipo con la R Moshe, quindi si chiamava Ragazzi. Non lo so, Marcello. Va bene. Prostima domanda. Comunque posso dire una cosa? Un dimetro. Ho un amico che non è loco. Con la R Moshe. Ma a me piace un botto come parla. Ma con questa frase si intende che loco non è un tuo amico. No, loco, infatti, l'ho già spiegato in un video di Minecraft. Io loco siamo conoscenti. Siamo collaboratori che si sono uniti per fare video perché loco è simpatico ogni tanto. Solo che ultimamente diciamo che avrebbe bisogno di qualche calcio nel culo. Allora, diciamo che abbiamo aperto la ricerca per il quarto. Sì, se volete raga facciami provini per settimana prossima. Provino team di Marci. Sì, sì. No, ti vogliamo sostituire. È diverso. No, no. Stiamo parlando con l'avvocato del contratto. No, no. Ti stiamo... Ti vogliamo sostituire, loco. Siamo più ce lì. Ma come di sostituirmi? Perché stai facendo solo. È presente le lampadine quando non si usano più? No, sta finendo il contratto, raga. Ma zio Piero. Sì, sì, abbiamo fatto quattro anni di contratto pieno di bonus. Però il primo di bonus ho deciso di non accettarlo. Lo santo Dio. C'è successo, ragazzi? Guarda come ride, forse perché è caldo. Ma perché? Aga, cosa è successo a Oco? Niccolò, io guarda, sta battuta veramente... Oco, basta. Nico punto mi sta puntando. In realtà è Nico virgola oggi. No, Nico virgola non c'è quest'oggi. Io sono Nico punto, raga. Ma smettete. E se c'è un altro terzo account, eh? Ma io non riesco a... Io, raga, mi sento un... Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Ma qualcuno è entrati in un box. No, io sto facendo una faticare allucinante. Io non ce neanche provato, boh. Ce l'ho fatto. No, ma c'è tutto il tuo. Ma raga, ma c'è la pistola. Ammazzano in vestito. Ma io atterro solo sopra, ma che io faccio a costa. Raga, voi cosa ne pensate del... Caldo che fa in questo periodo. No, beh, effettivamente è caldo. Ma voglio fare cardio. Va bene, vuoi andare a correre? Sì, vorrei fare... Riccardo. Vuoi andare a giocare a minigolf, Marci? Sì, infatti lo dicevano io che vorrei far minigolf e te l'ho invitato. Siamo io e lui, siamo. E io arrivo dopo, vero? Vuoi? Sì, tu hai detto che avevi da fare quel giorno. Perché era caldo. Perché non ci fai di casa tale, esatto. Perché non ci sono? Boh, non ho deciso di non invitarti, semplicemente. Dai, che per il minigolf mi hanno bannato una storia di Instagram. Hai detto che dici di una persona. E' vero io come una persona. Allora, Marci, tu ti ricordi che vi ho messo una storia? Che volevi andare a giocare a minigolf. Sì. Tutto mia richiesta. Io ho ripubblicato una storia, ho scritto così, prendo Nico ammazzate. E poi lo parlo da una storia. Ma perché? Ma sei stupido. Io l'hai segnalato te, Nico? Certo, scusa ragazzi, ti tengo a immazzare. Ma sei in serio? Ragazzi, le ammazzate sono serie, vanno male. Ma aspetta, sei in serio? Ma Nico ha fatto abbannare il logo. Nico sei in serio che mi hai segnalato una storia? Sì, sì, sono in serio. Ma potrei dirmi che mi fanno ammazzate? Non mi sembra un controllo pubblicare sui social, quindi l'ho segnalata. Ma sai che hai fatto veramente bene, Nico? Eh, però attento a dire che hai caldo perché potrei segnalarlo. No, fa troppo caldo, eh. Eh, ma dopo lo segnalo, non ce la faccio più a sentirlo. Loco, vieni qua un attimo, fammi salire. Ma raga, ma non si entra mai in sti cosi. Cioè, boh, è impossibile. Vieni qua. No, tu mi spari. Ma non c'ho, scusò, non ho niente. Ho la cosa IMP, cosa fa sta roba? Eh, mi stai puntando. No, no, vieni, non fa niente, vieni a vedere, non fa niente. Guarda. Ah, se io muoio... Ma sì, ma non muoio... Ma sei 5.000 euro. Se tu in questo momento mi uccidi, mi devi dare 5 euro. Vieni qua. Ma sì, li togliamo dagli 80 che mi devi. No, ti devo soldi, oh, mi stai giocando tutto. Oh, finalmente... Ti stai puntando, hai... Vedi che è solo... È solo IMP, ti fa tipo saltare in aria. Eh. Dammi entrare. Come si va a entrare? Ah, oddio, è vero, me l'ho dimenticato di questa cosa. Aspetta, esco, ti faccio rientrare. Oh, ma come hai crecchiato per me? Ma brutto cretino, scemo! E dopo le ammazzate! Hai fatto bene. Non gli si stacca la testa, però, purtroppo. Mi sembra davvero troppo. Non siamo sulle forest. Allora, ragazzi, siamo 1-0. 1-0, palla al centro. Io direi che se io mi... Si è io che mi comincia in questo round, quello dopo decide tutto, eh. Decreta tutto. Come siete? Ma io non sono mai entrato in una box, però va bene. No, raga, non ci arrivo. Allora, io sono entrato una volta e ho beccato la box più brutta del mondo. Cioè, è incredibile, è pazzesca questa cosa. Mi immagino che sia colpo di Loco. È vero, Loco è entrato da me. In quale sei entrato? Quella con la... No, una pistolina. Ma che stupido ancora, sono scemo. I'm very scemo, because I need some... Marco, il rosso è blu. Io sono rosso. Io ora ho investito Loco, per sicurezza. Io non lo comprendo. Marco, cosa stai facendo? Stanno indietro. Appunto. Speravo di atterrare bene. Ma quello lì è Marcio e Marco? Chi è? Oh io, che cacchio mi spade? Ma che no, non capivo. Em, raga? Sì, fra? Io non ho un problema. Ho un problema. Non mi ricorda che si sistemerà tutta la vita. Ho un problema. Ehm... Il caldo? No, è che non... Non riesco ad entrare. Marco, dritto, tira dritto! Zitto! Bravo! Eccala. Ma Marco è entrato? No, non sono entrato. E Marco sta guardando Oco. No, l'Oco sta guardando Marco. Ma sono io, questa cosa mi spari? Ma che dici? Ma non è vero. Oh, ho sentito qualcuno spararmi. Eh, sto sparando a quell'altro. Ma immortale. Ma dove sei tu, Nico? Lo senti bene con cosa succede? Ti ho tolto vita, o? Mi hai ucciso. Eh, ma... La mia unica arma che avevo. Ora l'ho ucciso, Marco. Divertiti. Non è vero. Vai, divertiti. Ti ho ucciso veramente. Divertiti. Ma che dici? Passa pure sopra, guarda, la striscia di sangue. Bella, eh. La tua arma dov'è? Non l'ha droppata. Mi sta sparando quella... No, Marco, ti prego. Uccidilo, guarda, fai bene. No, davvero, no. Mi sono arrabbiato. Marco, Marco, Marco. Cosa dobbiamo fare, Marci? E boh, che cosa ne sapevo? Che... Il fuoco amico non c'è mai stato e mo c'è il fuoco... Ma se l'hai investito! In effetti è un'investi amica. La macchina non è la tua... Non è la tua amica. Questa amica è... Marci, rimango qua. Scegli. O mi colpisci, mi ammazzi o ti ammazzo prima che tu arrivi. E cosa devo fare? Che ti investi. Vediamo... Vediamo quale delle due opzioni sarà la migliore. Sparagli! E dove sta andando quello? Uiiii! Non è entrato. Ma quale è lì, Nico? Aspetta. Avete vinto di infilire sul mio cadavere? C'è una chiappetta di fuori, aspetta. Eccoci qua. Ammazza anche l'occo per bene, se puoi. Non c'è morto! Mi hai tagliato testa! Mi hai tagliato testa? C'è un'articolazione. Godo! Scemo! Nico, è quel momento. Dove noi... Per riuscidermi di nuovo? No, no, noi adesso facciamo il delirio. Io entro il primo colpo nel secondo arancione. Wow! Entrano il triangolo in alto? Eh, quello è il più pesante. Triangolo, no! Ah! Mi sa che non è entrato, Marci. Nessuno è entrato, mi sa... L'ho passato letteralmente in mezzo. No, triangolo! Il triangolo, secondo me, è importante. È il più forte. Tu dici... Pazzesco. Veramente incredibile. Infatti, guarda, c'è un bel lanciarazzi qua. Facciamo fuori tutti? Guidato? Magari, zio Piero. Ma cosa ne sai te? Che non è manco la patente. Ma cosa ne sanno i 2000? Eh, Nico, 2000. Io fra un mese avrò la patente! Pensa a te. Che sfurti... Non uscite più di casa fra un mesetto. Ma dico... Nico, sai cosa c'è un proposto loco? Sai cosa c'è un proposto loco di andare a RomX e che guidava lui? Sì, 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 ma ci sta, eh. Vi auguro... Un'assicurazione sulla vita ce l'avete? Eh, la devo fare. Ma io so! Ma dai, bene! Perché qua non si sa mai. Ho capito, ma io non mi fido di te, posso dirlo, sta cosa? No! Ma che non ti fidi di me? Perché se nella vita... Se guidi come sei nella vita... Non hai vita su un minocente dopo tre giorni fai. Non hai vita su uno dei più superiore del mondo. Speriamo che comunque tu vada... Cioè, io sono contento che tu prendi la patente. Un target da acquisire. Loco. Loco. Va bene, vedo che siamo tutti d'accordo. No, perché trovo una deluxe con i missili guidati. Vabbè, loco tu sei veramente un deficiente, eh. Fatelo dire. Cosa ho fatto? Oh, stavo andando dritto. Il nostro sono io, eh. Eh, ragazzi, ho una deluxe con i missili guidati, mi ascoltate? Mi fai entrare? Ma no, me la rubi tu. No, no, fammi... Anzi, me l'ammazzo, guarda, guarda, lo dico. Zio, se mi fai... Non ho fatto una deluxe con i missili guidati! Zio, posso entrare con te? Eh, almeno stiamo vicini, vieni. Vabbè, non mi fai... Posso passare il giro, mi raccomando. Marco, c'è un missile dietro! Ecco, come sei elegante. Dai, ti porti in uno slot, dimmi quale vuoi entrare. Nel... il triangolo, dai. Andiamo a vedere cosa c'è nel triangolo, va bene. Marco, sei da vicini e esplodi, eh. No, tranquillo, fra. Eh, ma c'è il target acquired. Cosa vuol dire? No, ci saranno... Ma ci sarà secondo me non lo spacchi, sto coso. Vai. Oh, c'è il jetpack! Bello, zio! Con i missili guidati. Non sei morto? Quasi. Ho mezzo cuore, praticamente. Mai divertiti. Come si usa? Non lo so, non lo so usare. Marco? Ui? Dove sei? Via. Ma la vuoi la bomba? Ma come si usa? Non lo so. Stai volando in qualche modo, quindi penso stia funzionando. Eh, più o meno, Marco, ci hai fatta. Ma dove è Marco? Guarda, non ti sparo per piatà, te lo dico. Marco, devi prendere marci in volo. Io non ho capito dove è Marco. E' sopra un coso, era. Sopra un box. Ma senti che fai il dididididin? Può essere. Io non ho capito come si spara. Ah, oh. Non sei morto? Penso di aver capito. Penso, penso di aver capito. Marco, non è più più davanti di una macchina. È molto divertente questa cosa. Ma dove è Marco? È qua sotto di me. Un po' più la patta davanti. Fatemi cambiare l'auto, raga, che per favore... Eh, zio, scusa, l'ho tirata prima, quindi... Vabbè, abbiamo vinto. Nel Cili. È poco professionale. Ciao a tutti. Bella.